ancora migliore con i nostri ragazzi e a questo punto lascio a voi il capo per le domande per il ferito e io mi consiglio soltanto un abbraccio al solito, grazie grazie al direttore generale dell'AS Roma, passiamo a stare alle domande, inizia Onessa ciao Federico, benedetto complimenti per la costanza dello scorso anno per l'obiettivo e umanamente possiamo soltanto applaudirti perché hai fatto qualcosa di incredibile, ti dico cosa farai, come appronti questa nuova sfida e quali motivazioni hai? grazie per i complimenti, motivazioni sono tantissime, credetemi che dentro di me, anche se la voce non è fantastico, diciamo perché c'è tanta emozione, sono molto molto sereno molto sereno, questa serenità me la dà la mia famiglia, me la dà la mia moglie perché abbiamo affrontato assieme questa decisione, questa scelta e quindi sono estremamente sereno e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura grazie a tutti